E forse ben capito, non appenderti, che cazzo... Ehm... Nico? Regà? No, regà, giuro! Che cazzo! Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale ancora GTA 4 Stiamo andando avanti in questa campagna Del lunedì, mercoledì e venerdì mattina Mattina? Mezzogiorno E oggi ragazzi andremo avanti con Michael Faustin nel nuovo studio Tra l'altro l'avete già visto in alcuni video che vi ho già fatto, quello Ci mancherebbe Andremo avanti perché stiamo quasi per cambiare isola È un piccolo spoiler In qualche misione ci arriveremo Basta solo avere pazienza e goderci tutto quanto Ok, beh, ripartiamo da qui Poiché, come avete forse ben capito Non appenderti, che cazzo? Ehm... Nico? Regà? No, regà, giuro! Che cazzo! Adesso non posso né scendere né salire Né scendere né salire Né scendere né salire E rimango qua! Regà, non scende, devo ricaricare la partita Five years later Che cazzo! Però prima, dato il mio conto in banca Veramente cospicuo di 775 dollari Mettiti la mascherina Voglio comprare Degli occhiali Che ci stanno benissimo Yes Minchia, per 12 di dollari? Ma neanche da H&M Va buono Questa macchina mi sembra ca... Marina, dammela Dai, non è brutta Ma è lenta Intanto non capisco perché I bot porno Continuano a rompermi I coglioni su Facebook Vabbè Ma devi abbassare un po' di torno Ok, Final Destination Che tra l'altro è anche un film famoso Nema Problema Questo è il Perestroica Il locale del cabaret C'hanno già detto Che possiamo venire qua A vedere qualche spettacolo Magari anche con Michelle Che tanto non me la cagherò mai Il mondo di maiali Vabbè, tutti amici di Vlad Alla fine, quindi Sit down Have a drink Move up, ladies Move up Mikhail, we have something We need to talk about Ok, you can have Viralte, Katzina Come on Not that I'm private Girls, can you give us a minute, huh? Please Get out of me Keep it warm I won't be too long I won't be too long So, what is it? We've got police trouble The feds or someone are all over us Sergei told me that a friend of his in the courts told him They've been authorized to tap our phones And they know about the pot we stole Shit Who is the rat? It's no one It's just the way we've been behaving Making too much noise This was inevitable We're going to have to calm things right down for a while It's that fucking guy, yeah I know it is I saw it in his eyes You know That guy That guy who bought the coke But he didn't buy the pot That's Lenny He's my cousin's boyfriend It's not him Yes, he's a moron Yes But he's okay I don't trust him What? I just told you He knows too much You Get him Are you sure? Si, che cazzo è un sicario? No Manco c'era uno E' naso Gucci It could be you Think for a second This has been going on for months Think Look where you're thinking has got us You were in charge of security Good job Well done Dimitri You pathetic idiot You Prove you're loyal Go And kill the guy Don't question my loyalty Then don't question my orders He lives on Quantanamo Avenue in Bohan Head up there And call me Me personally When you get there Mikhail Please Va bene Faustin Va bene Va bene Shut the fuck up I'm begging you Shut the fuck up Please Don't do this Why don't you You want to play games? This is not a game You have to play Va bene Sua mesta Va bene Va bene Va bene Va bene Guantanamo Hai Sebasone in merda No Però A parte di scherzi Guantanamera Sarebbe un abitante Di Guantanamo Guantanamera Non è una stronzata Cioè si è andato su Wikipedia C'è scritto veramente questo In realtà non è Wikipedia È la vera storia della canzone Intanto sto qua Sta in macchina con me Vabbè Vabbè In 400 yards Turn left Eccoci qua Zitto 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 Devi stare zitto E' buono Ciao Ora vai a piedi Oh e mi sa che è qui che cambiamo Isola ma non credo Non credo ragazzi No andiamo nell'isola centrale Mi pare O forse no O forse no E' già così presto Che cambiamo isola Che sblocchiamo la seconda Allora Bisogna pagare il pedaggio Altrimenti ti ricercano Sì ma se sto mongoloide si pianta Li passo davanti 5 dollari va bene Perché se tipo adesso vado verso Manhattan Mi ammazzano Questo è il punto Questo è il punto Elimina Lenny Lenny Kravitz No poveraccio Allora la banchina è sopra E l'entrata è questa Ok Mitraglietta ce l'ho Ce l'hai? Ok Dai Dai Uno Ma vaffanculo No ci mancava anche il treno di merda No non mi risulta niente che Petrovic però Bene Ho fatto proprio carneficina Però dettagli Alla faccia della Final Destination Eh salutalo Perfetto La prossima missione dovrebbe essere sempre per Faustin E se non vado errato Mi porterò in procinto della sua casa In modo da risolvere Il viaggio Prima di chiudere questo episodio Bene Grande grande Siamo grande E comunque vi dirò Questa macchina qua Non è neanche brutta Fuori dai coglioni Tutti quanti Minchia Che bella Visuale Se non morissi prima Minchia canestro Torniamo alla base Torniamo alla base Minchia Ci sta più traffico che sul raccordo Qua Via 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 Grazie a tutti. Non mi ricercano, c'è la polizia lì? Bene, 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 ok, ok. E comunque noto, ovviamente, come in tutti i giochi della serie, che la grafica migliora man mano che vai avanti col gioco. Incapibile, eh. E comunque, ragazzi, con questi potenziamenti grafici, la differenza con GTA V, almeno per la 3, è veramente minima se non nulla. Ehm, questo è semplice e grossa. Ok, ragazzi. Qua io vi saluto, perché c'è un elicottero. C'è la guerra. Detto questo, ragazzi, vi saluto per davvero. Grazie della visione, bimbi. Lasciate like, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo, alla prossima. Con, diciamo ve lo spoiler, l'ultima missione della miniserie di Faustin. Grazie, ragazzi. Ciao.